Buongiorno a tutti quanti voi da Vittorio Chessinesi e benvenuti all'Almanacco di oggi, lunedì 6 novembre 2017. È il trecentodecimo giorno dell'anno e la chiesa ricorda San Leonardo di Noblac. Auguri a queste persone che portano il nome di Leonardo e il sole, sorto alle 6.50 e tramonta alle 16.59. La luna è gibosa calante. Oggi è la giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente nella guerra e nei conflitti armati. Il proverbio del giorno è chissà fa e chi non sa insegna. Molti amici oggi festeggiano il proprio compleanno e lo leggo dal mio profilo Facebook. E faccio tanti auguri di buon compleanno alla nostra gattona Luciana De Palo, Angela Bini, auguri prof, Chicca Graziano, Pietro Di Cugno, Domenico Ares Cartago, Tonio Caressa, Antonio Di Toma, Onofrio Catera, Annetta Senzio, Antonio Gambino, Giuseppe Corbio e Simona Patruno. A tutti questi nostri amici tanti auguri di buon compleanno. Oltre ai miei amici di Facebook voglio ricordarvi di iscrivervi gratuitamente sulla pagina YouTube. Il mio canale è quello di Vittorio Gassinesi, cercatelo, oppure volendo potete anche iscrivervi a quello di Trani News. Come anche le notizie che ascoltate dalla portale sono completamente gratuite. Le altre pagine su Facebook sono Vittorio Gassinesi e la banda di Matti, Bizzarro Spettacoli, Radio Canale 93, la radioattiva, Radio Canale 93, Old Remember, e poi pagine qual è quella di Trani C'è e tutte le altre. Comunque cercate Vittorio Gassinesi e ovviamente troverete tutto quello che vi serve, comprese le informazioni. Per partecipare a questa diretta, info 347 6215614. Grazie a tutti quanti voi, ancora auguri a quelle persone che oggi festeggiano e ci risentiamo alla prossima occasione. Ciao a tutti!